Vittuoteca, sei presente? Sei collegato? Vittuoteca, mi senti? Sei collegato? Pronto? Mi sentite? Sì, sì. Allora chiedo ai partecipanti di live. Ecco qua, ecco, facciamo un applauso a Mistruzzi. E volgo Dio. Ciao Brantinetti. Ti tradisco con Prantinetti, eh? Ti tradisco con un cazzo nero. Ti tradisco con un cazzo nero. Ti tradisco con un cazzo nero. E sapete che Mistruzzi è la mia... No, 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 tesoro no, però no, 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 tesoro no. Ti faccio simpatico. Devo chiudere il live, devo chiudere il live, devo chiudere il live. Allora, finché questo si può fare, intanto un saluto alla Truce. Ma sì, non è un problema, Andrea. No, allora, se ci limitiamo a questo possiamo dare bello spettacolo. Per favore, però, non andiamo troppo nell'intimo, ecco. Non andiamo nell'intimo, mi masturbo in diretta. Faccio impazzire di pre, faccio impazzire. Lo faccio impazzire. Metti la mia amica, metti la mia amica, metti la mia amica porno star. Sai che ci ho scopato sabato? Con questa ragazza che adesso, vedete, in live ci ho fatto un porno sabato. Avete capito? Metti la mia amica, metti la mia amica. A problemi di entrare, vediamo. A problemi di entrare, vediamo. A problemi di entrare, vediamo. Che cazzo. Metti, metti... Se lo mettiamo planchinetti anche, però... Dai, non riesco a leggere i commenti, sono troppo presa. Metti la mia amica. Ecco, ecco, l'ho trovata finalmente. Metti la mia amica. Vediamo se riesce a entrare. Comunque, ecco la mia porno star. La mia porno star. Ah, qua ci sono altri filtri, fantastico. Voglio filtri. Ecco, super. Bella così, amore, che noi scopriamo senza filtri. Noi facciamo filtri. Ma niente, no, i filtri esistono per quello. Guarda. Allora, grandissimo. Ecco, siamo in onda. Troppo così. Ancora con... Abbiamo avuto un brivido. Abbiamo avuto un brivido. Ecco. Abbiamo avuto un brivido. Così, però, ragazze... Che brivido, che brivido. No, nel senso che... Sapete che, purtroppo, siamo molto censurati qui, ma intanto è bello che la gente è spazzita a vedervi insieme, ragazzi, sono un po'... No, 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 però... È vero, ragazzi. Non facciamo un porno, io e Sabrina. Cioè, no, 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 no. Cioè, quando ho fatto un video con lei... Cioè, la gente è impazzita anche sui miei fans, è fantastico. Me ne ho chiesto anche altri video con te. Ah, perché noi insieme spazziamo, facciamo il porno, noi... Spazzate un po' di brutto. Che cosa avete fatto in questo video? Vabbè, bisogna vederlo. Non bisogna dirlo. Abbiamo fatto un priso, ma abbiamo scopato. Ecco, io ho anche annunciato comunque... Senta di te. Senta di te. Perché io ti tradisco. Perché non d'anno. Io ti tradisco. Ecco, io vado con tanti cazzi. Con tante figlie. Io no. Voi sapete che... Io sono diventata selettiva, pesa. Cioè, non li trovo più come piacere a me. Eh, ma io ti voglio un pulizzo. Lasciamo stare, va. Lasciamo stare. Cazzi neri DM. Cazzi neri DM. No, 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 raga, no. Non mi mandate cazzi DM perché vi faccio un culo così. Vabbè, quindi, insomma, ma posso fumare quindi? Sì, fumiamo, fumiamo, spietate. Certo, certo, certo. Sto facendo una canna per il popolo di Instagram. No, sono molto contento di mediagli qui insieme perché veramente era importantissimo. Dopo un DM. Ecco. Va, va. Togliamo i filtri, va qua. Che sennò pensano che sono... Ragazzi, io direi, è come il gioco dei pacchi, sai? Io mi fermerei qui. Dopo? No, sapete il gioco dei pacchi? Il gioco dei pacchi? Io mi fermerei qui, nel senso che sono felicissimo. Facciamo un selfie, un selfie, ragazze, con le vostre lingue. Facciamo un attimo, un bel selfie. Ma sei impazzito di prima? Questo era... Il mio fidanzato è impazzito. Ragazzi, tesoro, facciamo... Un selfie con la lingua fuori, dai. Un selfie per il... Vabbè, non ti ha chiesto di far vedere le tette, eh? Ti ha chiesto di far vedere la lingua. Ma io voglio che lui non fermi l'anichetta. Lui? Non ferma l'anichetta. Ma che sarebbe... Ma cosa stai facendo? Ma quello che era una sigaretta. Niente, e... Vito e te, Carlo... Buonasera gentili telespettatori. Ben trovati per questo mercoledì di grande spettacolo, di grandissime opere artemobili, di quelle star. E ho il piacere di avere qui con me in live. Allora, intanto, 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 subito il... Facciamo entrare il nostro videoteca di preista, c'è l'archivio del dipreismo, il notaio del dipreismo e vediamo se le due ospiti... Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera videoteca di preista. Buonasera, entra la grande esperienza, la grande conoscenza delle dinamiche di preiste fin dagli albori. e vediamo se le nostre due attesissime ospiti, che ho citato più volte in linea, e chiedo appunto a Biblioteca di aiutarmi a capire se sono online... Vediamo, ecco subito. Ricordo che è un momento molto particolare questo, perché, ripeto, si parla di... Cioè, so che l'avete visto nelle pubblicità, quindi... Allora, non mi sembra presente in diretta per ora... Allora, ragazzi, taggate tutti la truce nei commenti, così entra... Allora, gli ospiti sono Truce, l'avete visto Truce e Sabrina Ais. Ecco, tengo a dire una cosa, amici, perché proprio un'ora fa entrambe hanno fatto con me un video stupendo per YouTube che troverete, di cui non svero nulla. Quindi, se non per dire come è giusto Biblioteca, come spesso ci siano delle dinamiche particolari, anche per questo è Live TV. Quindi, intanto, ringrazio i moltissimi telespettatori già presenti, vedete, nonostante, appunto, stiamo usando profili di fan, di... Questo è il profilo di preista inglese, e infatti ho messo la canzone, avete visto, Fuck the British Beach in The Climb. Ragazzi, allora, taggate tutti la truce, mi raccomando... Ecco, nel frattempo ho la canzone importantissima, un attimo solo... Eccomi qua, eccomi qua, dimmi pure, dimmi pure... Beh, un attimo solo, un attimo solo, un attimo... No, 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 no... Ragazzi, taggate tutti la truce, mi raccomando... Un'altra cosa, un'altra cosa... Anche, un'altra cosa... Non, no, 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 no... E'europe ma ne sape questa cosa? Quindi, a una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa... Perfondare sono una cosa, un'altra cosa... Um... Sarvi, sembra, non, no, no, non, no... Grazie, ciao. Mi vedete che, scusa, si sentiva quello che dicevo al telefono o no? No, 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 non si sentiva. Ok, è una cosa molto importante del mio contatto. Ok, allora, vediamo se i miei ospiti sono arrivate. Vediamo un attimo. Intanto metto un cazzo, non metto, non metto un cazzo. Dopo ci sarà il Puma, fra poco, attenzione. Però, ripeto, sia Mistruce, sia Sabrina Ais, le troverete in un video importantissimo su YouTube. Quindi, attenzione, vi dico già questo. Quindi non c'è nessun problema. Adesso c'è un messaggio, un attimo di... Vediamo. No, no, non ti preoccupare, non faccio vedere mai niente. Comunque mi sa che devi cambiare le impostazioni perché non riesco ad accettarti dall'azienda. Ah, ecco, allora, Sabrina Ais mi dice che ci sono dei problemi tecnici nel collegarsi. Allora, intanto vediamo se... Allora, vediamo un attimo perché non vedo neanche Mistruce in live. Giusto, Biblioteca? Sì, allora... Allora, ecco, mi spiega che c'è, che c'è. Vediamo. Oh, però, vedete la vedete. Vediamo, eh. Un giorno in più che se ne va Un orologio fermo da un'eternità Per tutti quelli così come noi Sempre di corsa, sempre a metà Un giorno in più che passerà Comunque contattate Biblioteca di Preista Anche le persone che vogliono Forse ci fare a queste dirette Giusto, Biblioteca? Per organizzare anche... Ma, Biblioteca, sei presente? Sei collegato? Ecco. Biblioteca, mi senti? Sei collegato? Pronto? Mi sentite? Sì, sì. Sì. Tirate fuori la lingua E facciamo un saluto a tutti, ok? 3, 2, 1 La live è saltata Ma noi... Le due opere artemobili stupende Mi salutano? Ciao. Grande spettacolo. A presto. A presto. Ok, ragazzi, grazie. Fuori spettacolo. Perché? No, ben qui qui. No, ben qui qui.